Colt, Barley, ragazzi, terzo skip è una sirena Rispetto a Bull, rispetto a... niente Eeeeh... il primo No Niente No, ma mi dissocio Tomar753 non manca neanche oggi, comunque vi farei notare Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Zero to Hero Settimo episodio, oggi ragazzi voglio sbloccare per forza un brawler nuovo Quindi, aprirò delle box, se mi esce bene, altrimenti ho un piano B Prima di cominciare però, come sempre, vi ricordo il nostro regolamento Regola numero 1, non puoi farti carriare, quindi devi giocare solo con i randomini Regola numero 2, non puoi nerdare, quindi al massimo un'oretta al giorno di gameplay Regola numero 3, non si può shoppare, quindi potremo utilizzare solo le gemme che riusciamo a ottenere giustamente giocando Regola numero 4, non posso farmi sniperare, per questo il mio account ha un nome farlocco, molto visto in giro, vero botuno E regola numero 5, non posso utilizzare matchmaking agevolati di clan particolarmente forti o altri trucci mastrucci Buongiorno, eccoci sul nostro ripaddino e insomma, come avrete voluto capire, andiamo subito ragazzi qua sul nostro pass Perché iniziamo a spacchettare, infatti probabilmente è proprio spacchettando Che potrebbe uscirci quantomeno magari un primo raro, qualcosa Primo brawler delle box, vero? E quindi oggi voglio spacchettare, ok? Ci può costarli Partiamo subito, pronti? 3, 2, 1, subito con le brawl box Vediamo un po', ok, ok, un paio di punti per bull, al massimo ci potenziamo anche i brawler che non è roba da poco Se ho visto bene, anche nel negozio è una free box, quindi ce la andiamo ad aprire anche questa Colt e Nita, perfetto, ok Andiamo al volo anche di qua, altra brawl box piccolina Un mini box opening quello di oggi, proprio un mini mini box opening Ok, va benissimo, vediamo un pochettino l'altra free box Ok, niente skip extra per ora, ci sta a livello successivo per Nita Ancora brawl box, niente skip extra neanche sto giro e ci sta tutto Ripartiamo dall'inizio con le mega box, no scusatemi, con le big box 3 skip, bull, barley e nita, ok Vediamo un pochettino qua, di nuovo 3 skip, colt, nita e barley Ok, ottimo, ancora ragazzi, vediamo un po', abbiamo 3 skip, colt, barley Ragazzi, il terzo skip è una sirena 3, premessa, non sono né gadget né star power, non ho niente di livello 7 o 9, mi ricordo Dove eravamo rimasti? A giusto, 2, 1 e vai, vediamo un po' E il primeros ragazzi, eccolo qui, ovviamente, ovviamente, poteva forse non uscire il primo Qualcuno pensava a Spyco lì, ma che chiedite? Benissimo, benissimo, eccolo qua Vamonos ragazzi, perfetto E tu guarda, ci sarà mica qualche missione da fare con il primo per caso? Ah no, nessuna, va bene, abbiamo poche, comunque in effetti ci sta Ragazzi, io comincio a divertirmi in Brawl Ball Ok, cominciamo con il primeros ragazzi, siamo con un ringhio e un dina Qua abbiamo questo bellissimo pocio che mi dovrebbe far fidare la ulti Ok, bellissima anche per colte Vediamo un attimino se questo dina, bravo dina Facciamo così, tac Eeeh il primo, ok, buono E facciamo tranquillamente così Andiamo un po', vogliamo andare aggressivi? Andiamo un attimo, andiamo aggressivi, così Voilà, niente, sono già morti tutti Bella Omer, passa pure, niente, Omer fa Omer gli piace complicarsi la vita Omer, sei la persona più egoista di sempre Potevi fare gol sei mesi prima se me la passavi Vabbè, va bene Omer Non ha buttato un power up quel dog Ok, Byron addirittura Vabbè, ma me ne sto con Byron, ragazzi Ma me ne sto, ma me faccio sta doppia Vai, sparami Byron Ok, etpla, voilà E il primo ragazzi è, a livelli bassi almeno è una figata Cioè, è proprio, è proprio una figata Forse tra i fisici è il brawler più divertente Qualcosa mi dice che faremo più coppe di Bull Rispetto a Bull, rispetto a... niente Qualcosa mi dice che faremo più coppe di quelle che abbiamo fatto l'altro giorno con Bull, ragazzi Vabbè, ovvio che se trovo dei compagni che giocano sempre così tanto è un problema Vitaly è un secondo account di Vital Shark palesemente Voilà, no, ehi, ferma, ferma, ferma Ok, niente, non ce la faccio a trickare Buona Niente, sarà per un'altra volta Dritto, opla, vai E la 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 la, guarda qua che storia Ok, facciamo tac e tac Voilà, perfetto Ragazzi, easy goal con il primo, si vuole Non va neanche livellato, è proprio un spettacolo Oh, triplo tank addirittura Mamma mia, che paura Attenzione Attenzione Ok, mi ha preso la palla, il Bull Vabbè, qua mi faccio la ulti Vabbè Stai giocando tanto comunque Buona Vai No No Voglio farmi la tryhardtina, ragazzi Voglio vedere in un'ora di... di... di questo episodio dove cavolo arrivo Buona, 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 buona Via, 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 via Aia, aia Ok, bella per Penny Vediamo un po' quel Dynamite cosa combina, ma Fai i trichini, fai i trichini Dynamite Fai i trichini Io qua esagero tantissimo Guarda con quale cattiviera te lo sto dicendo Vai Ok, qua c'è un Colt, una Nita nel primo Abbiamo un Edgar in squadra, ragazzi Comunque tutti i broli particolari oggi, c'è da dire Sembra pure capace di giocare Guarda, guarda, fai i trichini tra di loro Cose Eh, questo è il primo, ragazzi Promette molto bene, eh Promette molto bene Ma sai che con questi ci faccio un play again Vediamo un po', niente Cosa fa questo? Eh, spara i muri Se ti incastri da solo, zio, non è che devi prendertela con i muri Il muro non ti ha fatto niente Opla Laggando Interessa Anche laggando Gol anche laggando Via The show must go on Vabbè, uno dei vantaggi di dover giocare solamente con i random è che non ho problemi Basta che lo clicco io, gioca ancora e la missione la faccio Non ho i miei compagni che mi snicciano come succede sul primo account Ma sì, io vado su diretto qua, ragazzi, via E vai a far gol, ciccio Oh, là, bravo Bravo, bravo, bravo Hai fatto il passaggio giusto, bravo Come erano le motte di base del primo? Era già carina Era già abbastanza discreta, dai Vai, bello Via Oh, ma è bellissimo perché si impegnano proprio per mettersi tutti in fila Ma è una roba spettacolata Si impegnano proprio, si mettono tutti lì, neanche in fila Tutti ammassati, tutti sulla palla Sarà uno dei push più veloci di sempre, questo è il primo, ragazzi Siamo dietro con una bell qua Attenzione, una bell e un crow Passa la zia Vabbè, a modo suo, ho capito Sì, belli di nuovo tutti in fila Bravi, bravi, bravi Eeeeeee Il primo Niente No, ma mi dissocio Oh, la Tomar 753 non manca neanche oggi Comunque vi farei notare Oh, miseria Oh, Tomar 753 è impazzito, eh Mi ha sparato ben tre rafficate, ragazzi Cose che comunque a questi livelli non si vedono spesso E ha potenziato anche il suo amico Tic Un Tomaz Pazzurdo, esatto Questo qua si chiama God, direttamente Sto Tomar, ragazzi, ci ha dato del filo da torcere Si è impegnato Vediamo un po' Eh, questo qua con Piper, matto Buona Tutti ammassati, bravissimi Via Ok, quel Colt lì comunque ragazzi è capace di giocare, spoiler Te l'avevo detto che era capace Ok, Rico Colt e Dynamike Dall'altra parte abbiamo di nuovo Tomar 753 L'immancabile Tomar Ma sono matti i miei compagni Questi qua giocano Dico gli avversari Spara, Colt, c'hai l'ulti Oh, vabbè Le magie dell'auto aim Vabbè, oddio Ferma, adesso anche Anche gli avversari Cosa sta facendo? Cosa li frulla per la testa? Ci penso io Via Ragazzi Questa la dedico A tutti i miei amici Oh, Tomar 753 Sei ancora tu? Ciao, bello Com'è? Da tre partite che non ci vediamo Andiamo su di qua Là Niente Ferma, ferma, ferma Fermati Ok, ragazzi Rank d'oro Bellino Stiamo volando Stiamo volando Siamo a metà? Siamo messi abbastanza bene Allora, dai Ci può stare Ehm, vabbè Ma qua siamo con uno squeak Sì, che spara a me Più che Ma cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo quest'uomo? Lascio fare a lui che sa Zia, ascolta Lasciala stare la palla Ma perché non si è dato il muro lì? Devo avermi salto proprio di brutto Flex Passa sta palla Ma cosa fai? Non tirarla di ulti Niente, la calcia Ha deciso Niente Ora sei contento Scommetto Hola Ok I love Emma Un saluto Un saluto Al carissimo Pocho Che magari Ci permetterà di fare Un Pocho tank Doppio tank No, perché c'è il muo squeak Ma cosa fa? Ma perché? Ma è matto questo Non commento quello che ho fatto Ma questo Daniel Non l'ho già incontrato, ragazzi L'ho già incontrato, Daniel Ah, non sono pazzo, allora Ok Fermati Qua hanno fatto una doppia Sono impazziti Ehi 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 Matto questo, ragazzi Buona 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 Gabriel Pirla Si chiama Il mio avversario Gabriel Pirla Secondo me Gabriel Pirla Tu in realtà sei un genio incompreso E chi ti dice che sei un pirla Non ti capisce Sono entrambi one shot Cosa stanno facendo i miei compagni, raga? Oh mio Dio Cosa fa? Spinano Ma che fanno? Eeeh Vabbè Ha fatto il trick, ragazzi Ha fatto il trick Ci rendiamo conto? Aia Aia Qua ragazzi potrebbe arrivare il gol Qua potrebbe arrivare il gol Potrei non dover usare più il condizionale tra poco nei miei discorsi E invece E invece no Invece la spuntiamo Contro Gabriel Pirla, ragazzi E la andiamo a chiudere così Il tutto a livello 1 Uh, questi hanno una iris Aspetta Può essere pericolosa No, sto per rompere a caso No, no, no Ok, ok Per fortuna no Attenzione al Daryl Ok, buona Buonissimo Uh, man FIFA boy Fermalo Fermalo il FIFA boy Matto Nel frattempo sono tipo a 1.200 Sto facendo un botto di coppe Con quattro brogueri in croce Vabbè Andiamo al volo di qua Vediamo un po' Oh, sta a giro la No, ma Come si chiama quella Shelly Brawl Stars, ragazzi Brawl Stars Basta Questo cosa fa? Scusate, stavo studiando questo Colt Ok, tolgo anche sto Dynamite al volo Se si può Voilà Un po' di spin Ci sta sempre un po' di spin Rank 12 E io praticamente su questo account Gioco solo Per vedere il nome dei miei avversari Cioè, già solo quello merita tantissimo Porca caccia Ha uscito una Shelly così dal nulla Fermo Ok, meno male quelli auto-e Me l'ha imparato Quel Carl secondo me ci pianterà una ulti Tra un po' Guardalo, guardalo Eh, matto Ragazzi Ultima per le 200 Ultima per le 200 Siamo ancora a 50 minuti Tipo Matalo Eeeh Pla Ma avanti, 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 avanti Ok Indietro, indietro, indietro Fermo Ma tipo questo? Vabbè Quella Rosalie lì non voleva più giocare Non le andava Oh, bello per questo boccio Che c'ha come nome il suo numero di telefono Ok Opla Eeeh Nooo Ha il gadget Quella lì Eeeh Ma ero con due di livello 7 Ma fai play again subito Nooo Ma perché mai una volta che uno faccia play again con me ragazzi Ho fatto le 200 coppie comunque Oh, c'è di nuovo Tomar Vabbè ragazzi E c'è un altro bottuno Ma qua c'è anche un Sandy Ma qua ci sono i leggendari sta partita ragazzi Abbiamo poi perso Ma no Ma no Sono trovato 199 E non ho fatto giocare ancora Vabbè Le ho sbagliate tutte Mi ci fiondo Cosa fa con la nita? Matta Matta con la nita E' da dritta in porta lei Guardali qua Belli tutti in fila Mannaggia Voilà Top Cosa ti ripugna l'aria? Ciao Goldman Ciao ciao Grandissimo Grandissimo Goldman Non so chi tu sia Aia Ne hanno un po' spolverato lì ragazzi Ve lo faccio il trick della life Magari un altro giorno Passa Goldman Hai la ulti Laggo Ok Vai Top Buona Regà Ce l'abbiamo fatta Ok 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 Ragazzi Voilà Guardate che lavoro Guardate che lavoro Ben 6 brawler su 47 Tutti over 200 coppe A parte nita e bull Vabbè In realtà No Non sono tutti over 200 coppe Tutti rancor almeno Ecco Diciamo così Insomma Questo era il nostro episodio di oggi Di Zero to Hero Spero che vi sia piaciuto Se così non è Pazienza Non mi interessa Ragazzi Ci becchiamo Alla prossima Un saluto a tutti 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 sicuramente Un salutone Ciao belli So keeps code Forti Fui Forest ani